Ciao ragazzi sono Bluefire, eccomino un hide and seek, il link del server lo metterò in descrizione perchè è molto difficile da pronunciare ed è possibile che mi caccino dal server perchè è pieno di donatori Ho già provato a registrare questo minigioco più volte ed eccoci qua in questo nuovo tentativo Deve essere molto bello come server, in questa modalità consiste nel nascondersi, cioè in pratica voi vi confondete con un blocco qualsiasi di minecraft e vi dovete nascondere nella mappa E invece un altro gruppo di persone con una spada di diamanti mi pare vi verrà a cercare, verrà a cercare dei semplici cubi in poche parole Allora, diciamo, no non diciamo niente perchè stiamo per partire immagino, questo, si si quanto manca un secondo immagino Infatti, eccoci, siamo un... cosa stiamo? No, un cubetto di fiore, fantastico! Non so quanto tempo abbiamo, non so dove potremo metterci, adesso mi studierò Vediamo questo server come funziona Non conosco la mappa ma... cosa fa un cubetto di fiore? Cioè, un... un pot, un vasetto in poche, in poche sono un vasetto, che bello essere un vasetto Di sicuro... Boh, potrei mettermi... È più facile forse che non mi trovino, tipo... In un posto distante Provare... Boh, chi lo sa? Boh, io ho paura qua, sono un vasetto e sono facilmente... Trovabile Chissà Sono ancora in 21 gli altri Qua mi beccano subito Devo a mio rischio e pericolo entrare Perchè la casa potrebbe essere una zona più sicura Uh, qua vedo un altro vasetto Mi metto di fianco a questo Ora, dovrei tenere la visuale di schermo ferma Ok, in un secondo sono un vasetto, ecco Ora sono un... un flower... un flower solido Con F5 Dovrei poter vedere Sì, ora anche se mi muovo non... Non cambia nulla Comunque, siccome sono sopravvissuto per così tanto Mi hanno dato un... wow 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 Una sfada di legno incantata Ho ancora... 20? No Sì, siamo ancora in 20 i nascosti Invece ci stanno cercando in 4 Quindi per ora vi sembra tutto normale Ma appena vedrete passare e correre i blocchi Non sarà più tutto normale E boh... e... Per ora stiamo resistendo Adesso voglio vedere gli altri che passeranno Voglio vedere se mi... se mi trovano o no Perchè se conoscono la mappa mi trovano Se sono come me invece no Wow 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 Bello, bello, bello Sì, wood block Perchè potete essere tutti i tipi di blocchi Ed è difficilissimo Quindi mi piacerebbe sia andarvi a cercare Che nascondermi In questo momento stiamo vincendo Stranamente, che bello E... Sì, posso anche muovere lo schermo Quindi... Vedere se c'è qualcosa o altra cosa Quello è un letto, è finto Ma c'avrò il fiore nel vasetto Boh Boh Ditemelo nei commenti Comunque We are in the red thing Usaggio shift Ah no, non cambia niente Ok Sono ancora 14 a nascondersi E 8 a cercarci Quindi diventa sempre più pericoloso Ancora 150 secondi in alto adesso Se vi può vedere Wow wow Fantastic Ho scelto una bella stanza Allora quanto pare C'era anche una libreria che scappava prima Epico Dai 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 Bla 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 Eccoci qua ragazzi In questo nuovo episodio di nascondire Non ci trovano Sono dei nabbi questi Che ci cercano La 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 Io saluto youtube Yau Youtube Blufire TV Potete vedere la mia vittoria Si My Vict Story Oh Per fortuna non mi ha visto Grandioso Beccheranno qualcun altro Mancano 89 secondi Questo qui si è fatto distrarre dal fatto che l'altro non abbia trovato niente E io sono rimasto qua a un vasetto Solido E quando finirà il tempo che Cioè verranno proprio A cercarmi Oh non mi stanno trovando Sono veramente fortunato Vorrei vedere qualche blocco scappare però E' molto divertente Non toccare i vasetti Non toccate i vasetti Non toccare i vasetti Ti prego Oh non ha toccato i vasetti Fantastico Siamo ancora in una vela libreria Guarda là che sta lottando con la libreria Stupendo Very stupendo Hanno una base in diamante Una Una base Una spada in diamante Quindi In due colpi Tre Mi 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 killano Wow 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 fantastico Siamo sobravisiti Siamo in sette Ho scelto Un posto fantastico I was the pot So continuing Si 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 abbiamo vinto I win Lufire tv Lufire tv Tutto attaccato On Yo U Tube Yeah Ragazzi 18 secondi Chissà cos'era lì Che è successo Ho vinto Bella ragazzi Da Blufire è tutto Da questa modalità E' stata una cosa grandiosa Se riesco ci rientro Vi faccio un altro match Ma in un altro video Bye bye Lasciate un mi piace Un commento Spero che vi sia piaciuto Ciao a tutti